Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio, traffico per il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, tratto chiuso a causa di caduta massi all'altezza di Giardinetto nel comune di Bagni di Lucca, viabilità deviata sul posto e senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Sulla statale 1 Aurelia, senso unico alternato per lavori nel tratto compreso tra Quercianella e la variante di Quercianella. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tramvia, da stasera cambia la viabilità in zona rotonda San Donato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!